Bovalinese e Montepone si dividono la posta e non offrono molte emozioni in un match vinto dai timori di entrambe di perdere ulteriore terreno in prospettiva salvezza. Di più nervosa è apparsa la formazione locale che una volta rimasta in 10 si addirittura ha resa in giugnantendo una prova quella dei catanzaresi che nel primo anno rischiato di prendere più volte gol. Le cose si sono rovesciate nella ripresa e quando il coraggio ha reso anche baldanzoso il team di mister Ortolini fluente alla manovra nella centralità del tempo è pericolosa in almeno un paio di circostanze. L'ultimo sussulto è amaranto ma il risultato più giusto è proprio quello finale eccettuato nelle proporzioni il gol lo avrebbero meritato entrambe. Nel primo tempo al quinto apre Pugliese alla 44esimo l'occasione migliore con Gligora di poco fuori. Nel secondo tempo Grillone tira alto all'undicesimo. Al sedicesimo altra gli otto occasione per gli ospiti con Ranieri. Al venticinquesimo dopo un fuorigioco contestato l'occasione di Yajib e sul finire Clamorosso sebbe stato per Accenni fare gol da quella posizione. Cose che si complicano per la Bolinese ed il tratto di calendario ora favorisce il Montepone ed è possibile raggiungere anche per altre vie la Bolinese impegnata a Gallico. Quel che rimane oltre all'occasione sciupata la consapevolezza che sarà ora facile farsi coinvolgere emotivamente data la posizione infelice di classifica. Per i ragazzi di Ortolini un pari galvanizzante su un campo ostico è per giunta con molte defezioni. Sì, nei secondi 45 minuti abbiamo rischiato di meno, anzi abbiamo avuto delle occasioni ghiottissime che non siamo riusciti a capitalizzare, però nel primo tempo abbiamo sofferto, c'è stata una spinta più organizzata da parte della Bovalinese, noi abbiamo tenuto nella prima parte di gioco, nella seconda siamo riusciti ad uscire anche perché eravamo in superiorità numerica dopo l'espulsione, però resta il rammarico per quelle tre palle gol nitide che non abbiamo capitalizzato. Diciamo che oggi abbiamo affrontato una squadra molto ben messa in campo da parte del mister di Montepaone che ha dato poche occasioni alla Bovalinese, la squadra era un pochettino nervosa anche per i risultati che non vengono purtroppo e diciamo che abbiamo avuto qualche occasione buona che potevamo sfruttare, ha spiorato il palo qualche volta a Min, è andata così il risultato 0-0, lo prendiamo così come viene. Grazie a tutti.